Erano da poco passate le 9.30 quando un'anziana signora la guida di una Renault mentre percorreva via Montagnola a Torre di Mezzano all'altezza della curva a gomito ha perso il controllo della vettura. L'auto è finita fuori strada con il muso nel fossato. Dopo i primi momenti di paura la signora, che non ha mai perso conoscenza, è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e auto medicalizzata. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco poiché si temeva inizialmente che la signora fosse incastrata nella vettura. Dopo le prime cure sul posto la donna è stata trasportata con codice di media gravità al Santa Maria delle Croci di Ravenna.